Ed ieri l'ultima ordinanza numero 79 firmata dal presidente della campagna Vincenzo De Luca contenente ulteriori misure di contenimento e prevenzione del contagio da Covid-19. In relazione alla situazione epidemiologica esistente, 1.127 contagi nella giornata di ieri, fa sapere il governatore Vincenzo De Luca, sono state adottate misure rigorose con il doppio obiettivo di limitare al massimo le circostanze di assembramenti pericolosi in ogni ambito, privato e pubblico e con l'obiettivo di ridurre al massimo la mobilità difficilmente controllabile. Le principali misure adottate sono le seguenti. Per il livello di contagio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico, nelle scuole primarie e secondarie, sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza dal 16 al 30 ottobre. In tutte le scuole dell'infanzia sono sospese le attività didattiche ed educative, ove incompatibili con lo svolgimento da remoto e le riunioni degli organi collegiali in presenza. Sono sospese le attività didattiche di verifica in presenza nelle università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno. Sono vietate le feste anche conseguenti a cerimonie civili o religiose, in luoghi pubblici, aperti pubblico e privati, al chiuso o all'aperto, con invitati estranei al nucleo familiare convivente. Sono sospese le attività di circoli ludici e ricreativi e fatta raccomandazione agli enti e uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza. A tutti gli esercizi di ristorazione fatto di vieto di vendita con asporto dalle ore 21 resta consentito il delivery senza limiti di orario. Tali misure si aggiungono a quelle già disposte nelle recenti e precedenti ordinanze, a cominciare dall'obbligo di indossare la mascherina deciso due settimane fa.